Siamo arrivati al campo, io e mio fratello Mudi, sei carico o no? Grazie Don e auguri, grazie Don! Siamo venuti a dare le stere munizioni. Allora, fine primo tempo, ora rientriamo. Mudi, lanciami! Marco, buttamola dentro. Κeltäter! Fuera istrana. Parabona, Parabona! No! Che dire, non ho parole Che dire, non ho parole